Tocca a me salutare il pubblico ringraziando per la presenza fino a questa ora inoltrata e soprattutto ringraziare i quattro relatori che hanno permesso a noi e all'Università degli Studi di Reggio di poter realizzare questa importante iniziativa che ci ha permesso di introdurre il tema delle edizioni nazionali e anche di mostrare lo stato dei lavori. Più avanti l'edizione Spallanzani e speriamo in un prossimo futuro di vedere ancora qualcuno di quegli 80 volumi. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti.